Professore, quali novità sugli opioidi saranno presentate al congresso di Rimini? Le novità sono tante. Sebbene questa categoria di farmaci, che è fondamentale per il nostro lavoro, sembra essere sempre esplorata in lungo e largo, poi in realtà dalle discipline di base emergono sempre delle novità. Nel caso specifico le novità consistono nel fatto che sono farmaci contemporaneamente analgesici, ma che allo stesso tempo possono innescare un meccanismo esattamente opposto, quindi determinare iperalgesia. E questi aspetti naturalmente assumono una grandissima rilevanza clinica. Ecco, professore, ci sono ancora reticenze nelle prescrizioni dei farmaci opioidi. Perché? Sì, sì, ci sono, sono, diciamo, oserei dire quasi antropologiche. Mi viene da fare una battuta che lo è fino a un certo punto. Ovvero sia, noi apparteniamo a una cultura, direi greco-giudaico-cristiana, che vede il dolore non come qualcosa da combattere tutte le volte che è possibile. Il dolore superfluo, il dolore inutile, perché di dolore ce n'è fin troppo, come sul dirsi. Ma lo vede quasi un po' come un paradosso, come una strada maestra per conquistarsi il paradiso. Per cui c'è una sorta, una reticenza che è culturale e che porta a enfatizzare gli effetti collaterali degli opioidi, che pure ci sono, e un po' a sottovalutarne gli effetti benefici, gli effetti terapeutici. Ecco, gli opioidi endovenosi possono oggi trovare applicazione nel travaglio di parto? A onor del vero, ci sono tecniche per il travaglio di parto che sono molto più efficienti dell'impiego endovenoso degli opioidi. Cioè sono le tecniche locoregionali, quindi la parto analgesia per capirsi. Però anche in quell'ambito, ovvero sia somministrazione di un anestetico locale neuroassiale, cioè nelle vicinanze del medullo spinale, basse dosi di opioidi potenziano enormemente gli effetti degli anestetici locali e consentono di ottenere il risultato terapeutico voluto con minori rischi di effetti collaterali. Ecco, la storia degli opioidi si lega agli albori della medicina. Quanto oggi beneficiamo di questa antica tradizione? Diciamo che effettivamente gli opioci hanno accompagnato il progresso del genere umano fin dagli albori, quindi sono dei compagni di viaggio straordinari. Oggi è ancora di più importante che vengano utilizzati, più diffusamente e con maggiore consapevolezza. Grazie a tutti.